All'inizio dell'autunno dell'anno scorso di una puntata di Senti chi parla proviamo a definire lo scenario della criminalità organizzata in provincia di Avellino in particolare nei territori del Vallo di Lauro storicamente influenzati dai clan camordistici dei Cava e dei Graziano e dalle nuove aggregazioni che nel frattempo sono andate nascendo in qualche modo tentano di consolidarsi. In quella occasione facciamo anche un ripasso dell'azione che forse dell'ordine magistrati della procura distrittuale antimafia hanno messo in campo decapitando più volte i vertici dei clan con processi alcuni dei quali si sono conclusi anche con severe condanne ma anche vedendo, registrando, facendo il punto sulle attività di indagine, di monitoraggio e di prevenzione soprattutto in relazione alle infiltrazioni della criminalità organizzata nella pubblica amministrazione e nella economia legale. Fu in quell'occasione che con tutte le naturali cautelle del caso il PM della DDA di Napoli, Francesco Soviero, fece un rapido ma sostanziale riferimento a questo versante che poi nei mesi successivi avrebbe trovato sbocco in inchieste, incriminazioni e arresti. Bentrovato dunque al dottor Francesco Soviero con il quale partirei dalla giornata recente del 21 marzo dedicata per legge alle vittime della mafia e della criminalità organizzata, mezzo milione di persone soprattutto giovani ma anche tanta gente adulta, tanti gonfaloni e tanti sindaci ovunque all'ocri come a Ponticelli. Per voi magistrati che state in prima linea e per le famiglie delle vittime queste manifestazioni non sono affatto retoriche né inutili, mi pare di capire. No, no, sono cose fondamentali perché come dico da tempo la lotta alla illegalità grande e piccola, alle forme di criminalità organizzate, alla corruzione deve essere un argomento centrale nella politica di qualsiasi governo nazionale e locale e quindi anche l'interesse dell'opinione pubblica deve essere sempre massimo ma anche grazie al lavoro dei giornalisti che pure è importante per la diffusione delle idee e delle notizie. Finalmente qualcuno ci dà dei meriti, ma ringrazio a nome della categoria. I giornalisti e gli scrittori in senso ampio fanno un lavoro importantissimo tutelato dalla Costituzione. Possiamo dire che non sono loro il problema. No, assolutamente. Il problema è quello che raccontano. È un complesso. È importante a mio parere a volte sollicitare, ricordo, una classe dirigente a volte di Stato, di una Repubblica, a volte con la memoria corta di com'è. Questo è un problema concreto, ripeto, la presenza della criminalità è un problema a fondo importante nella nostra vita in tutta Italia e soprattutto nelle regioni dell'Italia meridionale. Per cui benvengano queste iniziative che ricordano a tutti qual è il problema, quali possono naturalmente essere le risposte e le soluzioni. Due vittime innocenti, dottor Solviero. In provincia di Avellino ci sono due donne che insieme ai loro figli chiedono e attendono giustizia. Marisa Corbisiero, il cui marito Antonio, un fioraio, venne ucciso dalla camorra il 4 giugno del 2003. Era nella sua auto, venne crivellato di colpi, accanto dormiva la sua bambina più piccola. E poi c'è Antonietta Oliva, vedova di Pasquale Campanello, il soprintendente capo della polizia penitenziaria in servizio appoggio reale, ucciso appena sceso dal pullman a Torrette di Mercogliano dove abitava l'8 febbraio del 1993. Nel primo caso il PM Pazco nel processo aveva chiesto l'ergassolo per i due imputati che nei due successivi gradi di giustizia se sono cavata con meno, però non sono stati individuati i mandanti. mandanti ed esecutori ancora sconosciuti nel caso Campanello. Quali sono, le chiedo, le difficoltà che in questo caso e in questi casi incontrano investigatori ed inquirenti per risalire alla verità, non soltanto prioritariamente ai killer ma anche ai mandanti? Guardi, le indagini naturalmente sono complesse da fare, sono ancora più complesse quando vengono fatti in territori come questi dove davvero a volte riscontriamo l'assenza di collaborazione da parte delle vittime e dei testimoni. Questa è l'omertà di cui si parla, il controllo del territorio da parte della criminalità organizzata, perché spesso questi reati vengono fatti nella distrazione da parte di chi l'auto li subisce da parte anche dei testimoni. Poi naturalmente ci sono delle regole processuali che vanno rispettate, arrestare e condannare un soggetto, per arrestare e condannare un soggetto ci vogliono delle prove che devono essere anche forti, non bastano i sospetti, non bastano neanche gli indizi ed è giusto anche che sia così da parte della dinamica, della dialettica processuale. Questi casi specifici non li conosco, però possiamo dire che come fenomeno in Italia moltissimi casi, soprattutto i reati gravi rimangono senza colpevole, perché spesso non si hanno le prove certe per individuare l'autore, per individuare le prove a suo carico. Si parla anche spesso di processi indiziari e questo è il significato. Naturalmente bisogna fare le indagini, utilizzare tutte le tecniche e gli strumenti che il nostro codice rivede, anche la tecnologia è molto avanzata, ci consente e ci aiuta, però naturalmente ci vuole tempo, ci vogliono anche uomini, a volte anche denaro, perché bisogna anche investire in queste indagini, soprattutto quando sono più complesse, non mi riferisco solo agli omicidi, ma anche alle indagini criminali da organizzate, ma anche per la corruzione, le forme di infiltrazione dell'economia legale e anche nella pubblica amministrazione. C'è un territorio che comprende gran parte della provincia di Avellino, in cui i vecchi e nuovi clan provano ad imporre anche un controllo abbastanza spietato, Pago Valle Lauro, San Paolo Belsito, 15, Lauro, Marzano di Nola, complessivamente parliamo di comunità con una popolazione complessiva di 15 mila persone libera, aveva dato appuntamento ai cittadini per una iniziativa davanti alla sede del comune di Pago Valle Lauro, poche decine di persone, neanche meno hanno risposto all'appello. Un poliziotto che ha prestato servizio per 40 anni in prima linea nel commissariato di Lauro ha deciso di andarsene dopo che una bomba gli è stata fatta esplodere sotto casa, parliamo di Roberto Baccichette. Che clima è quello che si respira in questa comunità dal suo punto di vista? Quello che dicevo io tempo fa, ne ho anche scritto, noi da volte davvero possiamo dire che viviamo in una società camorrizzata, questo significa che il controllo della criminalità organizzata di questi paesi, delle nostre città è molto ferreo, significa che i cittadini comuni hanno paura, si sentono a volte abbandonati e l'altro lo sappiamo, la camorra cresce e va avanti proprio dove c'è l'assenza dello Stato. Quello che io dico da tempo, ognuno deve fare la sua parte, io nella mia piccola parte rappresento lo Stato, le forze e l'ordine ma anche i giornalisti, ma tutta la classe dirigente, ognuno deve fare il suo dovere. È un filo sottilissimo e confuso quello tra omertà e paura. Certo, questo è il problema fondamentale perché ci sono sicuramente tante persone, anzi io dico, l'ho detto nel processo capo quando ho fatto l'acquisitore, il 99%, 99,9 periodico per cento della popolazione di quei indici, di quei paesi sono onesti. Ci sono naturalmente le mele macce, ci sono i camorristi, ci sono anche soltanto i fiancheggiatori o simpatizzanti o semplici conniventi e poi c'è tutta la massa che ha anche paura e per questo è difficile denunciare certi dati che si subiscono. Ma dobbiamo far passare un messaggio che è quello di avere fiducia nelle istituzioni, nello Stato, lo Stato c'è, risponde per quanto riguarda l'attività di depressione, ci sono gli arresti, i processi e i camorristi non è più come 30 o 40 anni fa che muoiono di vecchiani nel loro letto, vanno in carcere, vengono arrestati e scontano pene anche lunghe, se non, ahimè, malaugurati i casi in cui vengono uccisi nelle guerre di Camorra. Ecco, c'è chi non parla e magari c'è chi parla anche troppo, forse a sproposito, lo dico pensando al caso di queste ore riportato da un collega molto in trincea su questi fronti della crona, Cattilio Ronca del Quotitano del Sud, il parroco di Pago, Don Filippo Ruggiero, sul quale si è scatenata la mezza bufera sul web durante la messa di San Giuseppe, celebrata in tutte le parrocchie del comune, dall'altare Don Filippo ha portato ai fedeli saluti dell'ex sindaco che si trova in un carcere del nord con l'accusa di peculato e di abuso di ufficio aggravato dal metodo mafioso, un'indagine che lei ha coordinato e condotto e che ha portato all'incriminazione di 12 persone a vario titolo indagate. Il parroco parla troppo a sproposito. Certe cose lasciano senza parole perché bisogna dire che sicuramente un cittadino come gli altri c'è la presunzione di docenza, come dicono, ci hanno insegnato in chiesa le pecorelle smarite devono ritornare nell'ovile, però bisogna anche far passare dei messaggi chiari alle persone, naturalmente mi riferisco anche ai cittadini comuni, anche meno attrezzati che non hanno magari un bagaglio culturale o di esperienza o di istruzione che fa capire chi è il buono e chi è il cattivo, qual è il bianco e qual è il nero, bisogna essere chiari, ma ognuno deve fare la sua parte, quello che dicevo da tempo e dicevo anche pochi minuti fa, ognuno deve fare la sua parte, magistrati, poliziotti, rappresentanti dello Stato, insegnanti, politici, sindacalisti, ma anche i sacerdoti che hanno una funzione educativa enorme, non soltanto religiosa, per cui far passare questi messaggi, sì, mandare i saluti, ma può avere tanti significati di tutto questo. Anche se non l'avesse, verrebbero confusi e interpretati chissà come, insomma. Certo, certo. I sacerdoti farebbero a meno di fare i postini, sarebbe un po' meglio. Sì, però è chiaro che il sacerdote per questo lavoro, voglio dire, i peccatori vanno anche perdonati, sì, però fa passare certi messaggi, ma insomma. Certo, ma perché c'è una commissione strana di religione, criminalità, voglio dire, abbiamo anche parlato. Rischia di portare fuori strada. Sì, fuori strada, confonde le idee. Lei nel dicembre dell'anno scorso le sue indagini hanno messo a nudo l'organicità, il completo asservimento dell'amministrazione guidata appunto dall'ex sindaco Giuseppe Corcioni, al plancava appalti, forniture, fino alla concessione, per esempio, di abbattere a piacimento gli alberi dei boschi demaniali. Oggi altri nodi vengono al pettino. Le elezioni a Pago, Valle Lauro, sarebbero state in qualche modo influenzate, se non controllate dalla Camorra. Indagini sono in corso, non le chiedo naturalmente notizie sulle indagini. L'attuale sindaco però, Antonio Mercogliano, che vinse quella elezione nel 2016, peraltro recentemente, vinse per 54 voti di scarto sull'altra lista. Mercogliano però dice, anche io voglio che si indaghi a 360 gradi su quanto sarebbe avvenuto. Pare di capire, dalle notizie che provengono anche dalla Commissione parlamentare antimafia, che Pago sia sull'orlo dell'ennesimo scioglimento. Sì, queste sono iniziative del Ministero interno e della Prefettura. Noi dalla Procura abbiamo fatto le dovute comunicazioni all'esito degli arresti e le indagini che sono ormai concluse, quelle che lei ha citato prima. Ci sono stati degli sviluppi ulteriori sui quali naturalmente non posso entrare. Sulla verificare appunto se ci sono state infiltrazioni della criminalità organizzata, che come ben sappiamo, che non è pura teoria, a volte anche pratica, cerca di entrare direttamente o indirettamente nelle pubbliche amministrazioni, di avere dei politici, degli amministratori locali di riferimento perché hanno degli interessi ad entrare negli appalti, a vincere le gare di appalto, di subappalto, come tanti criminali nell'Italia meridionale. Bisogna stare attenti, ognuno appunto deve fare il suo dovere, la classe politica nazionale e soprattutto quella locale naturalmente deve essere impermeabile, dal lato le lusigne, dall'altro anche le minacce della pubblica amministrazione. Fare gli amministratori locali, fare i sindaci, gli assessori, i consigli comunali, è un'arte nobile, si fa per spirito di servizio principalmente, devono avere tutti gli onori, ma ci sono anche gli oneri, devono avere i nostri amministratori per l'interesse dei cittadini tutti, per la vita migliore dei nostri paesi e delle nostre città, devono avere le spalle larghe e fare il loro dovere, applicare la legge perché sono anche essi uomini dello Stato. Bene, un'ultima cosa, dottor Soviero, la geografia criminale in movimento nel Vallo di Lauro, come le sue inchieste in qualche modo hanno fatto emergere, c'è la famiglia San Germano che insieme a gruppi del Nolano incalzano per la supremazia sul territorio lo stesso clan CAV, poi ci sono l'Italia, altro nome comparso nell'inchiesta di pago e sulle commissioni tra la pubblica amministrazione, come stiamo messi da questo punto di vista, che movimenti ci sono? Senza entrare nelle indagini, naturalmente ci sono sicuramente nuovi sviluppi, i clan di più antica formazione hanno subito sicuramente dei duri colpi con gli arresti e i processi e le condanne che ci sono state. Ci sono soggetti nuovi che cercano naturalmente di riempire i vuoti lasciati dei clan, diciamo, più forti in passato, nei fiscali Cava e Graziano e naturalmente ci sono anche delle sinergie, lei ha citato bene il rapporto da Nolano, i paesi di Nola e di San Paolo, che sono appunto vicino a Nola, con il Vallo di Lauro, che ci sono una vicinanza e ci sono naturalmente accordi e strategie tra questi gruppi nuovi, alcuni sono veri e propri amolisti, altri sono naturalmente soggetti con minore peso specifico dal punto di vista criminale e su questo si rivolgono le attenzioni delle forze di regolizia e della magistratura. Bisogna verificare se ci sono reali, quali sono gli autori, naturalmente una logica di repressione, innanzitutto, ma anche di prevenzione per evitare appunto che questi soggetti, queste nuove aggregazioni diventino sempre più forti e riescano davvero a controllare il territorio. Ecco, un'ultima cosa, il clan Graziano, lei stamattina è stato ad Avellino, dove come pubblico ministero ha presenziato ad una serie, diverse udienze, a diversi progetti. Il clan Graziano, molti, alcuni, insomma, elementi di spicco di questo clan hanno scontato le pene, stanno uscendo o sono già usciti dal carcere, nel frattempo i figli sono cresciuti, mi pare di capire che dal punto di vista degli investigatori e degli inquirenti, insomma, questo clan non ha cambiato vita, nonostante le mazzate giudiziarie ricevute, perché insomma escono elementi di spicco, nel frattempo sono cresciute le seconde linee, figli, parenti, cugini, non cambiano vita. No, non è proprio così, perché sicuramente questi gruppi che lei ha citato hanno subito dei duri colpi. Naturalmente alcuni di questi, chi viene scarcerato, oppure i figli, i nipoti, come lei ha detto, continuano a fare attività illecite e a mantenere in vita un'associazione camorristica, naturalmente non è una società che va in fallimento e si scioglie così facilmente. Posso dire che sono cambiate tante cose perché sono più guardinghi, fanno meno reati, molti di questi sono indagati, sono attenzionati o indagati dalle forze di polizia, perché naturalmente hanno anche paura, hanno paura delle denunce, hanno paura delle indagini e degli arresti. Quindi non è che i processi, gli arresti che ci sono stati, sono stati bani. Ci sono stati anche da parte di questi soggetti delle reazioni, molti di questi non escono, hanno anche maggiore attenzione nel fare le estorsioni, fare le usure, i classici reati o fare il traffico di coca, perché sanno bene di essere attenzionati. Hanno perso un po' della spavalderia che li contraddistingueva. Sicuramente, sicuramente, non hanno più quella sicurezza, quella presunzione dell'arroganza che esiste una volta perché le forze di polizia e la magistratura sono sicuramente più attente e hanno dato risposte migliori. Ecco, un'ultima cosa la possiamo dire soprattutto ai giovani di queste famiglie, insomma, non è una condanna essere imparentati, essere figli di questo, però, insomma, soprattutto a questi giovani si potrebbe dire di guardare un po' le immagini del 21 di marzo in tante città italiane, a Ponticelli come a Locri, per vedere, insomma, come potrebbe essere anche la loro gioventù, mi pare che, insomma, questo sia un consiglio, mettiamola così, da dare e da suggerire, soprattutto ai giovani che vivono in contesti familiari e ambientali che hanno a che vedere direttamente con la criminalità organizzata e con i clan. Guardate le facce di quei giovani, quelle bandiere, quelle musiche, quei cori e quella libertà è probabilmente un pensierino, forse ce lo farete. Sì, sicuramente bisogna dare dei modelli positivi di riferimento. Non bisogna pensare al camorrista al guappo di una volta che aveva appunto successo, denaro, consenso sociale. Oggi anche questi camorristi, soprattutto, diciamo, le leve più basse, diciamo, delle organizzazioni criminali, fanno una vita pessima, guadagnano alla fine quattro soldi e molto spesso vanno in carcere. Per cui bisogna dare dei modelli positivi di riferimento a tutti i giovani, pensando che se ci si impegna si può davvero vivere una società migliore e davvero libera, che non deve essere naturalmente uno slogan. Capisco le nostre città, i nostri paesi a volte è difficile emergere, ci sono problemi sociali, lavorativi, grossi, ma bisogna avere forza e fiducia perché le cose sicuramente possono migliorare con l'aiuto di tutti. Ecco, le ultime cose che diceva il dottor Soviero mi ha fatto ricordare un po' un passaggio di un film di decrescenza in cui diceva, ma insomma, chi boffa fa? Che vita è questa? Utilizzava un'immagine un po' più colorita. Qui, non è una vita decente, questo lo possiamo dire. Grazie dottor Soviero, la ringrazio molto, grazie ai colleghi che hanno lavorato con noi a questa puntata di Senti chi parla e grazie a voi naturalmente che avete voluto seguirsi anche oggi. Arrivederci. Grazie a tutti.